Ciao, oggi primo giorno di maturità 2023. Che traccia hai scelto per la prova d'italiano? Ho scelto la tipologia B, precisamente l'attesa e i tempi di WhatsApp. E come ti è sembrata come prima prova? Ti aspettavi altre tematiche, altre questioni? No, in realtà mi aspettavo sempre tematiche relative alla tecnologia, quindi ci ho azzeccato. E come ti sei preparata per questa prima prova d'italiano? Ho studiato un po' il programma di storia e italiano, nel caso in cui avessi dovuto scegliere la tipologia A, però non mi è servito perché alla fine per la tipologia B era attualità. E com'è stata l'ultima sera prima degli esami? Eri preoccupata? Hai cercato un po' di rilassarti? Un po' preoccupata, sì, però ho cercato di rilassarmi anche questa mattina con i miei compagni. E adesso come ti preparerai per le prossime prove? Per domani, per la seconda prova, sicuramente mi studio bene il programma, faccio un po' di esercizi e poi per l'orale farò un ripasso generale di tutte le materie. In bocca al lupo allora per i tuoi esami. Grazie.